Il V-Log Questo è il primo tentativo di vlog Benvenuti a The V-Log The V-Log sulla vacanza a Veronza Il vlog di Veronza Il vlog di Veronza dove Sottolineatamente non succede nulla Siamo in mezzo a Cavallese Che è la capitale del nulla E niente Passo il primo giorno di Veronza Siamo in mezzo a Cavallese A Cavallese Siamo su una montagna Montani da Cavallese Dove solo i vecchi si spingono Esattamente Però Siamo incontrato anche Gente giovane Giovane Da cui due ragazzi che paccavano Apertamente in piscina Comunque tutto sempre Diciamo nell'ambito dell'arresto Dell'arresto Quindi Nino Renni Come ci si confà ultimamente Esattamente Questo è stato Vedete il sudore Ma non si vede Tentativo di Tornare in forma Io ti dico che oggi Piero ha immocchiato un travone Che serviva il caffè All'autogrill Con questa maglietta Il travone che ha detto Che sarebbe una maglietta Perfetta per suo figlio Che voleva dire Togli te la voglio Vederti i pettorali Beh Bambino C'ha dieci anni E ripiena sparato La battuta da padre Beh Sostante bambini Sostante E poi ha preso le sigarette Con le pinze Del cornetto Perché non ci arrivava Non solo Abbiamo tanto cantato Per 700 km Presto avete Sì Presto avete un video Io in realtà L'ho messo a caricare Contenuti speciali Su Youtube All'inizio Quando siamo arrivati All'una Di pomeriggio Ma Non ha fatto manco L'1% Ah e fra Ha scoperto che Gli indiani Quando si infervora Lo fanno Ah quando Discuti con un indiano E ci parli L'indiano fa Ti stai parlando Senza Per alcun motivo Era impossibile Mandare avanti La conversazione Immagino Mentre Si fa così Vabbè niente Quindi oggi Questa è Oggi molto blanda Perché non è successo niente Questo è quanto Piscina Corsa Abbiamo iniziato Una vita sana Ne ho fatto anche 10 10 flessioni 10 flessioni E 20 addominali L'obiettivo è Far perdere 7 kg a Pierpaolo No Non è vero L'obiettivo è fare 8 km in 30 minuti Dobbiamo andare In meno di 34 In meno di 38 minuti Che io già so Che non riuscirò a fare Anche perché Mi è venuto Il mio classico Oggi Il chilometro Piero Aveva delle orrende Piaghe Su un fianco Si è dovuto Fermare Infatti mi sa che io Ti lascerò a correre E me ne andrò in palestra Dovremo Non dobbiamo chiamare Il servizio sanitario nazionale Mi riempio di piaghe E vabbè Stasera Grande serata Ospiti all'animazione Ancora non abbiamo capito Che significa Hanno cercato di coinvolgerci A inventare una sorta di numero Però Non l'abbiamo fatto Io avrei voluto Il fatto è che Non abbiamo idea di cosa fare Sennò volentieri Che cosa avremmo fatto? Io posso anche salire E fare il cabaret a braccio E io intanto Non lo faccio Ti faccio i rumori Con le ascelle E ti accompagni Tu mi paghi la spalla Come quello che fa Sennò Sennò Dopodì No Torno giovedì Torno il buio Come quello La gente ride La gente ride Oggi quindi niente Andremo lì E E vediamo se esce fuori qualcuno Bagamente della nostra età Bagamente Vediamo Diciamo dai 18 ai 26 Un range di 8 anni Porca Sì C'è sicuro C'è sicuro Va bene E adesso mangiamo brugne E ci facciamo la doccia Dopo le brugne però Prima una bella Scopata No Con le brugne Cacata Cacata Perfetto Lasciate i commenti Nella barra sotto Commenti sulla cacca Altrimenti niente E domani il secondo vlog Attenzione Seguiteci